segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la presche va proprio nel senso che dicevamo il governo fonti draghi non si è dimesso ma riflette attesa per il consiglio dei ministri vedi la letteratura certa volta aiuta eccomi anche anche questo vale per tutto siamo sempre grandine e sole cioè è l'elemento e questo è comunque quello quello che che si apprende in questo in questo momento che è chiaro che è chiaro cari telespettatori che siamo alle prese con il consiglio dei ministri è convocato alle 18 e 15 alle 18 e 15 e noi alle 18 e 15 prima delle 18 e 15 anzi